Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Carl Pansram nasce il 28 giugno del 1891 in una piccola fattoria del Minnesota. I suoi genitori, Johann Gottlieb Pansram e Mathilda Elisabeth Litsi Pansram, sono immigrati tedeschi che lavorano duramente. Come la maggior parte degli immigrati di quell'epoca, sono piuttosto severi e purtroppo molto poveri. Carl è il maggiore di sette figli, ha cinque fratelli e una sorella. I fratelli di Carl sono agricoltori, tutti molto dediti al loro lavoro, tranne Carl a quanto pare. Definisce la sua famiglia onesta, a differenza sua. Carl ha sette anni quando i suoi genitori si separano. Data la loro condizione economica, però non possono permettersi il divorzio. Quindi il padre un giorno semplicemente esce di casa e se ne va. Da allora nessuno ha più sue notizie. La situazione si fa ben più difficile in famiglia a questo punto. Tutti lavorano alla fattoria tutto il giorno, l'unica cosa che possono fare per tentare di sopravvivere. Nonostante Carl sia il più grande, è costantemente maltrattato. Sono proprio i suoi fratelli a picchiarlo senza sosta. Il suo comportamento non ne giova. Infatti nel 1899 finisce davanti al giudice del Tribunale dei Minori con l'accusa di ubriachezza molesta. Ha appena otto anni. A undici anni fa irruzione nella fattoria di un vicino e ruba tutto ciò che riesce a tenere tra le mani. Ossia una torta, delle mele e una pistola. Nel 1903 viene arrestato per questo furto e mandato alla scuola di formazione statale del Minnesota, che all'epoca era una sorta di istituto di riforma per delinquenti minorenni. In parole povere, finisce in un riformatorio. Questa scuola si trova a sud di St. Paul, lungo il fiume Mississippi. Ospita 300 ragazzi di età compresa tra 10 e 20 anni. I minorenni all'interno dell'istituto sono alla completa merce dei carcerieri, a loro volta non sottoposti a controlli esterni. Karl viene registrato l'11 ottobre 1903 nella struttura e viene definito incorreggibile e litigioso nei confronti dei suoi genitori. Quando arriva all'istituto, il ragazzo terrorizzato viene portato in un ufficio da un membro del personale. Qui il componente dello staff lo obbliga a spogliarsi, così da potergli esaminare le parti intime. Poi lo interroga sulle sue pratiche intime. Nel riformatorio i ragazzi ricevono una formazione cristiana e se si comportano male o se non imparano le lezioni, vengono puntualmente picchiati dagli assistenti. Karl non ha avuto un'istruzione adeguata, quindi ha molta difficoltà a leggere e per questo viene regolarmente punito. Ne consegue che ben presto Karl inizia a provare un certo odio verso gli assistenti e verso tutto ciò che riguarda la religione, causa delle sue sofferenze. Quando un membro dello staff vuole punire i ragazzi, li porta in una stanza chiamata la stanza dei dipinti. Il soprannome dipende dal fatto che, quando i giovani escono da quel locale, sono pieni di lividi e quindi dipinti. Karl subisce parecchie punizioni anche per le infrazioni più insignificanti e più subisce, più il suo risentimento cresce. Viene picchiato con assi di legno, spesse cinghie di cuoio, fruste e pesanti pagaie. Ad un certo punto il ragazzo inizia a pianificare la sua vendetta. Il 7 luglio del 1905, mentre esce dalla stanza dei dipinti, monta un dispositivo che provoca un incendio. Tutto il laboratorio della scuola è immerso nelle fiamme, mentre Karl, ridendo, osserva la sua vendetta compiersi davanti ai suoi occhi. Alla fine del 1905, il ragazzo ha ormai imparato a evitare le punizioni del riformatorio. Sa ciò che i carcerieri vogliono sentirsi dire, quindi quando compare davanti alla Commissione per la Libertà Vigilata, li convince di essersi riformato e di essere diventato un'altra persona. Proprio durante quell'inverno sua madre va a prenderlo al riformatorio per riportarlo a casa. E in effetti Karl è davvero cambiato, ma di certo non in meglio. Ora sembra più distaccato, chiuso, silenzioso e anche minaccioso. Sua madre però non può concentrare completamente le sue attenzioni su di lui. Uno dei fratelli più piccoli è morto per annegamento, non molto tempo prima, e soprattutto la salute della donna sta peggiorando. In tutto ciò Karl le sembra un ragazzino che di base vuole solo creare problemi. Forse la donna spera che crescendo la situazione cambi, che migliori. Ma l'unica cosa che cresce in Karl è il risentimento, a questo punto anche nei confronti della madre. Nella sua breve vita, quindi fino ad ora, Karl ha conosciuto solo sofferenza, punizioni e botte. La sua mente ormai si sofferma su cose che un bambino neanche dovrebbe immaginare. Così nel gennaio del 1906 semplicemente se ne va per sfuggire dalla sua situazione, per allontanarsi dalla sua famiglia. È fermamente deciso a vivere la sua vita ed è già consapevole del fatto che questo lo porterà a rubare, a piccare incendi, distruggere e uccidere ovunque andrà e chiunque incrocerà nel cammino di vita fino alla sua morte. Vi ricordo che parliamo di un giovane che non ha ancora compiuto 15 anni. Karl quindi lascia la desolata fattoria del Minnesota per non tornare mai più. Arriva quindi nel Nord Dakota e non molto tempo dopo si intruffola su un treno merci diretto nel Montana. A bordo di questo treno bazzicano quattro clochard nascosti in un vagone di legname. Dicono al ragazzo che gli avrebbero procurato dei vestiti decenti e soprattutto avrebbero trovato un posto caldo dove dormire. Ma vogliono qualcosa in cambio. I quattro uomini gli fanno violenza intima di gruppo e non c'è niente che Karl possa fare per farli smettere. In ogni caso al termine del viaggio Karl riesce a fuggire e così inizia la sua carriera criminale. Compie furti, rapine e aggressioni. A Butte in Montana viene arrestato per furto con scasso e mandato al riformatorio statale. Ha solo 15 anni ma ha un fisico possente e la sua indole di adolescente ribelle non passa inosservata e attira l'attenzione dello staff. Un ufficiale in particolare lo tratta così male che Karl alla fine si vendica picchiandolo sulla testa con una pesante tavola di legno. Per questa aggressione viene picchiato, rinchiuso e sorvegliato a vista. È a questo punto che il giovane prende una decisione. Lui, con la vita in prigione, ha chiuso. Vuole uscire. Così nel 1907, insieme a un compagno di reclusione di nome James Benson, Karl fugge dal riformatorio. I due si recano in una città vicina e riescono a rubare diverse pistole. Karl e James stanno insieme per circa un mese viaggiando sui treni merci diretti a Est. Rubano e appiccano incendi ogni volta che possono. Più precisamente amano dare fuoco alle chiese della zona perché chiaramente queste hanno un significato molto negativo per Karl a causa del trattamento subito in Minnesota. Quando Karl e James raggiungono Fargo hanno due pistole e centinaia di dollari rubati. È a questo punto che si separano. Karl inizia a farsi chiamare Jefferson Baldwin e riprende a dirigersi a ovest attraverso le pianure del Nord Dakota. Alla fine si ferma a Helena nel Montana dove la sua storia ha una svolta. Una notte mentre sta bevendo da sole in un bar Karl sente un discorso tenuto da un reclutatore dell'esercito. Quella stessa notte mente sulla sua età e si arruola. Durante il primo giorno di uniforme viene accusato di insubordinazione quando si rifiuta di svolgere il suo lavoro. Continua poi a finire in carcere parecchie volte nei mesi successivi a causa di piccole infrazioni dato che è sempre ubriaco è impossibile da controllare e non è in grado di conformarsi alla vita dell'esercito. Nell'aprile del 1908 Karl fa irruzione nell'edificio del quartier Mastro e ruba dei vestiti per un valore di circa 88 dollari. Viene prontamente arrestato e il 20 aprile si dichiara colpevole di tre accuse di furto. È condannato a tre anni di reclusione e lavori forzati e viene congedato con disonore. I prigionieri federali vengono inviati al penitenziario federale di Leavenworth in Kansas. Karl viene incatenato e trasportato alla stazione ferroviaria locale. Sul treno lo incatenano all'interno di un carro di bestiame. Durante il viaggio non gli vengono forniti né cibo né acqua. Il ragazzo viene rilasciato nel 1910 e non ha nessun posto dove andare. A questo punto ha solo 19 anni ma ha già trascorso la maggior parte della sua vita in vari riformatori e in prigione. Gli anni di abusi prendono il sopravvento anche perché il ragazzo non ha famiglia né casa né prospettive per il futuro. Non è mai stato abbracciato da qualcuno che gli volesse davvero bene. Tutto ciò che conosce è orrore, cattiveria e violenza. Nel corso degli anni successivi si sposta dalla costa orientale alla costa occidentale, adotta molti pseudonimi e commette diversi crimini. Viene condannato a molti anni di reclusione ma riesce ogni volta a fuggire attraversa il Kansas, il Texas fino ad arrivare in California. Si sposta salendo sui treni merci e trascorre del tempo a Washington, in Idaho, nello Utah e in Oregon. Nel 1913 dopo aver passato molti anni a bere abbondantemente alcol e a subire percosse e prigionie, Carr diventa effettivamente un criminale a tutti gli effetti. Vive per strada, è muscoloso, ha le spalle quadrate, molte donne vengono attirate dal suo aspetto ma Carl non dimostra mai interesse per il gentil sesso. Carl si trova a Shinnock nel Montana quando viene arrestato col nome di Jefferson Davis per furto con scasso e condannato a scontare un anno di prigione. In carcere incontra il vecchio amico James Branson e i due pianificano nuovamente una fuga insieme. In realtà alla fine James non parteciperà a questa evasione a causa di un trasferimento dell'ultimo minuto. Il 13 novembre 1913 Carl fugge dalla prigione solo per essere catturato nuovamente una settimana dopo con un'altra accusa di furto con scasso. Le aggiungono quindi alla condanna un anno per la fuga. La vita in prigione è chiaramente monotona la struttura è inoltre gravemente a corto di personale e mal gestita. I detenuti insomma possono fare davvero poco se non sdraiarsi nelle loro celle o girovagare nel cortile del carcere. Carl però trova il modo per occupare il suo tempo. La sua corporatura robusta e la sua reputazione gli permettono di intimidire i detenuti per indurli alla sottomissione. In pratica ora è lui a fare violenza intima sugli altri e lo fa più detenuti per tutto il giorno tutti i giorni. arriviamo al primo giugno del 1915 Carl fa irruzione in una casa a Astoria in Oregon per compiere una rapina. Viene anche in questo caso accusato di furto in un'abitazione e quando il procuratore distrettuale promette che ci sarebbe andato piano con lui Carl si dichiara colpevole. Viene condannato a sette anni nel penitenziario statale dell'Oregon a Salem con il nome di Jefferson Baldwin. Le guardie identificano immediatamente il suo atteggiamento poco collaborativo ma ne sono indifferenti. Il direttore della prigione Harry Persiminto tiene in righe i detenuti frustandoli sottoponendoli a getti d'acqua ghiacciati picchiandoli non facendoli mangiare e mettendoli in isolamento. I prigionieri che non rispettano le regole vengono spesso incatenati ai muri o appesi alle travi per ore o addirittura per giorni interi. Il 18 settembre 1917 Carl riesce a fuggire ma pochi giorni dopo un agente locale lo riconosce e tenta di arrestarlo. Il ragazzo estrae una pistola e fa fuoco sul poliziotto finché non esaurisce i proiettili. A questo punto viene nuovamente catturato. Durante il viaggio per la prigione lui e l'ufficiale litigano fino a quando Carl viene picchiato così tanto da svenire. privo di sensi viene di nuovo portato nella prigione da cui era scappato in precedenza e sbattuto in isolamento ma non per molto. Infatti il 12 maggio del 1918 riesce a scappare di nuovo sega le sbarre della finestra con la lama di un seghetto e scavalca le mura della prigione. Le guardie se ne accorgono immediatamente e provano a sparargli ma Carl riesce a inoltrarsi in un bosco e a scomparire completamente. Sale poco dopo su un treno merci diretto a est cambia il suo nome in John O'Leary si rade i baffi e parte per la costa orientale. Nell'estate del 1920 Carl si ritrova a trascorrere nel tempo a New Haven nel Connecticut. Esce di notte vagando per le strade cercando un bersaglio facile da colpire un uomo ubriaco da derubare un ragazzino su cui fare violenza o una casa da svaliggiare. In agosto individua una vecchia casa coloniale a tre piani che spera vivamente appartenga a un aristocratico. Fa quindi irruzione saccheggia alcune stanze poi entra in una camera e trova una notevole quantità di gioielli obbligazioni e una pistola automatica calibro 45. Quando legge il nome sulle obbligazioni si rende conto che appartengano allo stesso uomo che lo ha condannato alla reclusione per tre anni nel 1907 ossia l'ex presidente degli Stati Uniti d'America William Howard Taft Carla a questo punto si sposta a Manhattan dove impegna la maggior parte dei gioielli e delle obbligazioni conservando solo alcuni oggetti come ad esempio la pistola. Con i soldi che riesce a ottenere compra uno yacht parte dall'East River e prova a commettere furti su navi e vascelli ancorate nelle sue zone di navigazione fino a quando non arriva ad uno yacht club a New Haven dove si stabilisce per un breve periodo. decide di starsene lì per un po' si gode il tempo bevendo abbondantemente e pensando alle sue prossime vittime. A questo punto torna nella zona di Manhattan ancorando la sua barca nell'East River ed è qui a questo punto che nota il gran movimento di marinai che cercano lavoro sulle barche ancorate da quelle parti. Così a Carl si accende una lampadina. Gli viene un'idea. Comincia ad attirare sul suo yacht uno alla volta diversi marinai in cerca di mestiere. Se li fa amici offre loro da bere li fa ubriacare per poi dargli altrettante sostanze che li stordiscono li deruba li picchia fa violenza su di loro e poi li uccide sparandogli con una pistola calibro 45. Lega quindi corpi e li porta fino al faro di Execution Rock lì a circa 100 metri dalla riva senza tante cerimonie scarica le sue vittime in mare. Continua a portare avanti questo piano per tre settimane poi chiaramente l'agente del posto inizia a insospettirsi e Carl decide che è ora di cambiare aria quindi inizia a navigare lungo la costa del New Jersey con i suoi ultimi due passeggeri fino a Long Beach Island in quanto è lì che vorrebbe ucciderli e scaricare i loro cadaveri. Tuttavia accade qualcosa di imprevisto un'enorme burrasca colpisce lo yacht che finisce a pezzi contro le rocce. Carl riesce a nuotare fino a riva ma si salva per un pelo i marinai invece raggiungono le spiagge a nord di Atlantic City scomparendo rapidamente nei terreni agricoli. Facciamo un salto in avanti di alcuni mesi e arriviamo al 1921 quando dopo essersi messo nei guai a Bridgeport Carl si imbarca clandestinamente su una nave e finisce in Angola una colonia portoghese sulla costa occidentale dell'Africa. Una volta lì ottiene un lavoro come caposquadra su una piattaforma petrolifera. Rimane nella città costiera di Luanda dove fa violenza a un ragazzo di 11 anni per poi ucciderlo. Dopo l'omicidio torna a Lobito Bay un villaggio di pescatori dove rimane per un po'. La gente del posto in realtà sospetta che il colpevole sia Carl ma nessuno riesce a provarlo e purtroppo non riusciranno mai. Non ancora contento Carl ingaggia sei marinai per la caccia al coccodrillo nella giungla. Uccide tutti questi uomini in una barca sparando a ognuno di loro un colpo alla schiena e una in testa per poi gettarli in pasto ai coccodrilli affamati. Poi torna a Lobito Bay. La gente però l'ha visto con quei sei uomini. Carl quindi è consapevole che in qualche modo deve riuscire a sparire. Riesce a nascondersi su una nave diretta a Lisbona in Portogallo. Quando arriva però scopre che il governo locale lo sta cercando a causa dei crimini che ha commesso in Africa. Si nasconde a bordo di un'altra nave diretta in America per scappare. Così nell'estate del 1922 Carl torna sul suolo americano. A questo punto rinnova la licenza di capitano e recupera i documenti per il suo yacht progettando di rubarne uno simile a quello che possedeva lui. Così inizia a cercare nei cantieri navali. Finisce a Salem nel Massachusetts dove il 18 luglio 1922 si imbatte in un ragazzo di 12 anni di nome George Henry McMihon che cammina da solo. Il ragazzino ha trascorso la maggior parte della giornata nel ristorante di un suo vicino di casa finché il proprietario non gli ha chiesto di fare una commissione per lui. George è quindi per strada diretto in un negozio quando viene avvicinato da Carl che si offre di accompagnarlo. Mentre George compra tutto ciò che deve Carl intavola anche una conversazione con il commesso e dopo aver lasciato il negozio convince il ragazzino a fare un giro con lui. Finiscono in una parte desertica della città. A questo punto Carl afferra il ragazzino lo porta in una zona ancora più appartata e fa violenza su di lui per circa tre ore. Poi lo colpisce con un sasso alla testa uccidendolo. Copre il corpo del piccolo con dei rami e si allontana. Passa un altro anno Carl va in giro per gli Stati Uniti continua a commettere furti delitti e a fare violenza su ragazzini. Il 9 agosto del 1923 si trova a New London in Connecticut sta cercando qualcuno da rapinare quando nota un ragazzino che chiede soldi per strada. Carl si avvicina gli punta un coltello alla gola lo obbliga ad assumere qualche sostanza per stordirlo lo porta in mezzo ai boschi e fa violenza su di lui a lungo ripetutamente. Infine usa la cintura della vittima per strangolarlo e ucciderlo. Lascia di nuovo la zona e attraversa la costa orientale costantemente alla ricerca di opportunità per rubare cibo e denaro. Un paio di settimane dopo il 26 agosto 1923 Carl fa eruzione del deposito dei treni di Larchmont a New York fruga tra le valigie rubando tutto ciò che può quando un ufficiale gli si avvicina e lo arresta per furto. Carl si identifica come John O'Leary e confessa ulteriori effrazioni che ha commesso. In tribunale la mattina dopo viene accusato di quattro capi di imputazione per furto con scasso quindi il giudice fissa a 5.000 dollari la cauzione e lo rinvia alla prigione della contea in attesa di un'azione del gran giurì. Viene incriminato poche settimane dopo per il furto con scasso a Larchmont. Conclude un accordo con l'ufficio del procuratore distrettuale. In cambio di una pena più lieve Carl si sarebbe dichiarato colpevole. Carl in effetti si dichiara colpevole ma il procuratore non tiene fede all'accordo condannandolo a 5 anni. Viene mandato a Sing Sing ma non ci rimane a lungo perché è uno di quei prigionieri difficili da controllare. Viene perciò trasferito alla struttura penitenziaria di Clinton dove i criminali sono controllati da guardie abituate a detenuti ostili. In quest'epoca le prigioni sono regni autonomi governati da guardiani che spesso ricorrono a metodi barbari per controllare i loro prigionieri. La struttura penitenziaria di Clinton nello stato di New York ne è un perfetto esempio. Era conosciuta dai detenuti come una delle strutture più brutali della nazione. Carl arriva nell'ottobre del 1923 viene spogliato totalmente e i suoi averi vengono confiscati. Lo staff della prigione tra l'altro è formato da persone imparentate tra loro perché diverse generazioni di impiegati carcerieri sono cresciuti lì e vivono in zona. Di conseguenza i loro metodi sono stati tramandati di generazione in generazione e perpetuati per anni considerano i prigionieri a loro affidati come animali che meritano la brutalità. Molti detenuti infatti sono finiti all'ospedale statale psichiatrico in seguito ai maltrattamenti ricevuti e Carl prova a fuggire entro pochi mesi chiaramente. Si arrampica su uno degli alti muri esterni e cade per dieci metri schiantandosi sul cemento sottostante. Nella caduta si rompe entrambe le gambe e le caviglie oltre a ferirsi gravemente alla colonna vertebrale. Invece di procurargli cure mediche le guardie le portano in una cella e senza tante cerimonie lo lasciano cadere a terra. Il detenuto non viene visitato né riceve alcun trattamento. Le ossa rotte di Carl chiaramente non si sistemano da sole e non lo medicano mai non lo portano in ospedale per mettergli il gesso. Dopo quattordici mesi di agonia costante Carl viene portato in ospedale dove subisce un'operazione. Poco dopo l'intervento viene sorpreso a fare violenza ad un altro detenuto. Le guardie lo confinano in isolamento e viene ignorato per il resto della sua detenzione ossia due anni e quattro mesi. Viene rilasciato da Clinton nel luglio 1928 paralizzato dalla profondità della sua stessa follia. Viene consumato dalla vendetta dalla rabbia e nel giro di due settimane commette diverse rapine e uccide un altro uomo a Baltimora. Viene arrestato e mandato nella prigione di Washington D.C. Carl a questo punto è alto circa un metro e ottanta e pesa circa 90 chili. Al suo arrivo dà il suo vero nome per la prima volta da decenni. Nei primi giorni fa diverse osservazioni alle guardie sull'uccisione di bambini quindi decidono di fare alcune indagini e scoprono che non solo Carl sta dicendo la verità ma che è anche ricercato da tempo e in diverse giurisdizioni. È in questo periodo che incontra una guardia di 26 anni alle prime armi. Questo ragazzo figlio di un immigrato ebreo è stato da poco assunto nella struttura e si chiama Henry Philip Lesser. Il giovane quando Carl viene processato sente il bisogno di avvicinarsi a lui e chiedergli quale o quali crimini abbia commesso perché vorrebbe riformarlo così come ha fatto con altre persone. Nelle settimane successive Henry Lesser si avvicina quindi a Carl fa amicizia con lui e gli regala dei soldi per comprare del cibo e delle sigarette. Carl grazie a questo piccolo atto di gentilezza si scioglie totalmente non è abituato a nessun gesto di compassione ciò che ha fatto Henry significa molto per lui. I due uomini sviluppano una sorta di amicizia e iniziano a confidarsi tra di loro. Henry Lesser convince Carl a scrivere la storia della sua vita e nelle successive settimane è proprio lui a fornire al detenuto ciò che serve per scrivere che è considerato materiale di contrabbando. Così Carl mette in nero su bianco dettagliatamente la sua vita distorta dall'odio. La storia inizia inizia proprio da quando viveva in quella fattoria rurale del Minnesota. Nella sbalorditiva confessione Carl fornisce dettagli precisi sui suoi omicidi che vengono successivamente confermati dalle autorità. Fornisce date orari luoghi e racconta dei suoi tanti arresti. Dal 1900 al 1930 mentre Carl è alle prese con la sua carriera criminale la comunicazione tra le forze dell'ordine è nella migliore delle ipotesi primitiva. Tutto ciò che i criminali dovevano fare al tempo era cambiare spesso nome e tenere la bocca chiusa se volevano evitare di essere incarcerati. Carl aveva bene imparato questa regola perché era stato arrestato con diversi pseudonimi. Alcuni di questi sono Jefferson Baldovino Jeffrey Rhodes Giovanni Re John O'Leary Carl non descrive solo della sua vita condivide le sue opinioni sul sistema di giustizia penale e sulla società una società in cui solo alcuni individui hanno il potere. L'uomo attribuisce la colpa dei crimini che avvengono proprio a questa società. Secondo lui infatti la società crea i criminali infine spiega che la sua vita è stata costellata da violenza proprio a causa di coloro che lo hanno torturato e punito. Pagina dopo pagina Carl descrive dettagliatamente il suo pellegrinaggio di omicidi e violenze intime attraverso numerosi continenti. Non ha mai provato alcun senso di colpa o di rimorso. Considera le sue azioni come un modo per vendicarsi di un mondo che lo aveva reso una vittima. Non aveva importanza che coloro che aveva scelto come sue vittime non fossero quelli che avevano causato la sua sofferenza. Il 29 ottobre arriva per lui un mandato d'arresto con un'accusa di omicidio per il delitto di Alexander Hussaki a Philadelphia il 26 luglio 1928. In Massachusetts la polizia di Salem porta i due testimoni che avevano visto lo strano uomo la notte in cui George Henry McMihon fu assassinato. Entrambi si rivelano in grado di identificarlo. All'inizio del 1929 Carl si rende conto che è destinato a rimanere in prigione per il resto della sua vita. Tuttavia dopo quest'ultimo arresto si arrende. Il suo processo per le accuse di furto con scasso inizia il 12 novembre 1928. Al termine del procedimento prende la parola confessa i furti e ammette che in un'occasione in particolare è rimasto in una casa per diverse ore tirando che i proprietari tornassero perché era intenzionato a ucciderli. L'intero processo dura meno di un giorno. Carl viene dichiarato colpevole e il giudice lo condanna a scontare un totale di 25 anni nella prigione federale di Leavenworth in Kansas. Carl quindi torna a Leavenworth il primo febbraio 1929 e viene portato direttamente nell'ufficio del direttore. è considerato troppo imprevedibile per rimanere insieme agli altri detenuti durante le ore di lavoro quindi viene assegnato al reparto lavanderia dove in pratica può lavorare tutto il giorno da solo. Il suo supervisore è un impiegato civile di nome Robert G. Renke. Robert è un uomo calvo ben noto per aver denunciato i detenuti anche per le infrazioni più lievi. Usa la sua posizione di supervisore per esercitare il suo potere. Parecchie volte denuncia Carl e l'uomo viene messo in isolamento. Quando viene fatto uscire dall'isolamento però Carl dice agli altri detenuti di stare alla larga da Robert perché presto sarebbe morto. Arriviamo al 20 giugno 1929 quando mentre lavora in lavanderia Carl raccoglie una sbarra di ferro. Si avvicina a Robert che sta lavorando su dei documenti. Alza la sbarra e colpisce ferocemente la testa dell'uomo schiacciandogli all'istante il cranio. Mentre a terra Carl continua a picchiarlo in testa senza sosta. Gli altri detenuti presenti guardano la scena con orrore cercano di scappare ma le porte sono chiuse. Iniziano ad urlare mentre Carl li segue per la stanza urlando imprecando e brandendo la sbarra. Quando intervengono le guardie armate Carl dice loro con calma di aver ucciso Robert. Lascia cadere a terra la pesante sbarra di ferro e le guardie aprono cautamente la porta. A quel punto Carl si dirige in silenzio nella sua cella senza dire una parola. Il processo per l'omicidio di Robert inizia il 14 aprile 1930. Carl entra zoppicando in aula con aria di sfida. Quando il giudice gli chiede come intende dichiararsi si alza e soghigna mentre risponde non colpevole. Il pubblico ministero chiama una moltitudine di testimoni. Durante tutte le deposizioni Carl rimane seduto sulla sua sedia e sorride a chi sta parlando. La giuria delibera per soli 45 minuti prima di emettere un verdetto di colpevolezza. Il giudice quindi lo rimanda a Leavenworth fino al 5 settembre 1930 giorno in cui tra le 6 e le 9 del mattino verrà portato al patibolo e impiccato. Sentendo ciò Carl sembra essere sollevato anzi quasi felice. Un sorriso genuino gli si allarga sul viso mentre si alza dalla sedia. considera questa condanna a morte come una sorta di sollievo. Venerdì 5 settembre 1930 Carl viene prelevato dalla sua cella alle 5.55 escortato al patibolo. Le uniche persone presenti ad assistere alla sua esecuzione sono alcuni giornalisti e una dozzina di guardie carcerarie. Ribelle come sempre Carl maledice sua madre per averlo messo al mondo. Alle 6.03 precise la botola si apre e Carl muore. dopo essere stato tirato giù dalla forca l'ospedale della prigione esegue un'autopsia standard e dal momento che nessuno è andato a reclamarlo il corpo è stato portato al cimitero della prigione su una carriola e sepolto in un terreno comune. l'unica l'unica identificazione è una pietra con il numero 31614 detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video non so se conoscevate già la storia di questo serial ma a me ha colpito molto perché ha viaggiato ovunque è arrivato ovunque e soprattutto l'ha fatto per la maggior parte un po' con i treni merci ma soprattutto tramite la barca la navigazione insomma quindi mi ha stupito tantissimo perché ha fatto davvero tantissimi danni io ora non ho detto più di tanto i nomi delle sue vittime perché davvero si sa poco in effetti e onde evitare di fare la lista della spesa sapete che non è mai molto carina come cosa ho deciso di raccontarvela in questo modo questa è proprio la storia di Carla fatemi sapere se vi è piaciuto questo video chiaramente come al solito vi aspetto qui sotto voglio sapere quale sono le vostre opinioni e nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti